Elisa, hai fatto? Anna e Michele sono arrivati, sbrigati. L'emergenza della violenza chiede prese di posizione e forti risposte da parte di tutte le istituzioni. Occorre lavorare sulla prevenzione e sull'informazione a tutti i livelli. Il video sarà presentato pubblicamente per la prima volta venerdì 11 aprile al Teatro Feronia di San Severino Marche alle ore 21. Al termine della proiezione avrà luogo un incontro dibattito con i responsabili dei centri antiviolenza, con la prefettura, con la casa di accoglienza, per indicare i percorsi concreti che si possono avviare nelle Marche e di quelli già avviati a sostegno delle donne vittime di violenza. Nella regione sono presenti 5 centri antiviolenza, una casa di accoglienza e dal mese di dicembre scorso anche una casa di emergenza. Il confronto sarà utile anche per far conoscere meglio la vita e l'operato di queste strutture. L'evento è ingresso gratuito.